Eccoci benvenuti, stiamo vedendo la classifica delle migliori parcheggiatrici, eccola qui, ora che aveva parcheggiato i sabbio mobili, al loro posto invece un'altra donna che aveva preso la curva un po' ravente all'angolo, all'ottavo posto, invece troviamo una donna che, scusate, aveva parcheggiato sui binari, doveva avere capito la differenza, eccola, settivo posto, una donna che invece voleva distinguersi, sesto posto, per invece questa giovane autista che è rimasta scacciata dal peso della guida, quinto posto, per questa donna che si è portata via quanto pare un distributore intero, ecco vedete la gente che ancora in credo, e poi la quarto posto, questo fantastico parcheggio, vedete il parcheggio che è riuscito a realizzare, terzo posto, per questa donna che ha trovato un parcheggio estemporario, inquadrata dalla telecamera che inducia, secondo posto, eccola qui, fantastico parcheggio, come lo potete vedere, e primo posto, è una donna che si è messa il casco, non sai capito ancora, e perché, e chiudiamo qui questo video, buonasera. Grazie